Si voleva, l'abbiamo cercato già da diverse partite, oggi abbiamo stato più concreti, più convinti in tutto quello che facevamo, determinati, principalmente di guadagnare quel centimetro al nostro avversario, più verticale anche, abbiamo creato, non siamo stati ancora quelli effettivi che noi siamo stati all'inizio della stagione, che ci poteva permettere di controllare molto meglio la partita, perché abbiamo creato delle opportunità sufficienti per avere più questo controllo, comunque contro una squadra organizzata bene, fisicamente molto importante, con tantissime verticalizzazioni, senza palla, con palla, e la squadra praticamente è stata quasi perfetta. E questo mi rende molto felice, vedere i ragazzi molto più vicini a quello che è stata la realtà della nostra prima parte della stagione, perché è quello che rende felice a tutti, questo mi rende felice anche a me. Salve, complimenti, il direttore sportivo Pradea ha detto che è doveroso credere ancora alla Champions League, adesso ci sono sei punti dalla Roma, lei ci crede ancora, è questo che inculcherà nelle teste dei suoi giocatori da quella fine della stagione? No, io credo, io no, cioè io cerco di mettersi nella testa dei miei giocatori, e di averci sempre l'attitudine che vedo e che voglio vederla, di migliorarsi continuamente e di lavorarsi sempre con più convinzione e determinazione per vincere le partite. Abbiamo già parlato che a un certo momento di questo campionato le aspettative che noi abbiamo creato per il risultato e per il gioco ci ha fatto anche creare le difficoltà emozionali che abbiamo fatto fatica di altropassarle e spero che la partita di oggi sia principalmente il risultato ma anche la prestazione individuale e collettiva sia un passo di arrivarsi fino alla fine facendo tutte le partite come abbiamo dimostrato oggi, molto vicino alla qualità individuale e collettiva che la squadra ha e che ha già dimostrato all'inizio della stagione. Mester Salve, ieri se non sbaglio hai detto a un certo punto devo trovare la chiave giusta, io vorrei sapere, penso che tu l'abbia trovata, qual è questa chiave giusta e poi seconda domanda, Kalinic. Io credo che, o io continuo a ripetere, io credo che la chiave giusta è toccare in punti che secondo me sono fondamentali perché praticamente mi hanno sempre dimostrato che la qualità del nostro gioco è stata sempre rappresentata in quasi tutte le partite mancando questa convinzione, questa determinazione individuale e collettiva che ti avvicina a averci questa cattivera agonistica di vincere partite che ti permette di dare continuità alle vittorie come è stato all'inizio. Cioè è un qualcosa che lavora in continuo, individualmente, collettivamente. Certo che sono mentalità diverse, c'è caratteristiche diverse di ognuno, uno cerca di toccare su queste perché io credo che il piano... vita è emulsione, calcio è emulsione, per questo dobbiamo cercare di continuare a passare e a trasmettere emulsioni dove questi tasti che aveva parlato di l'allontanenza della paura di non vincere con l'ambizione di vincere deve esserci molto più vicina a questa visione e questo è che abbiamo dimostrato all'inizio e questo è che io cerco di lavorare, ho parlato in cultura, cultura della città, cultura vostra, cultura nostra, cultura della società, è un qualcosa di lavoro continuo. E su Nicola, lui ho già provato, credo che è stato molto più vicino e con più volte al gol, arriverà anche lui a farlo perché continua a dare profondità al gioco, continua a essere un giocatore fondamentale nel nostro gioco per questa continuità fino a quando lui troverà il sorriso del gol.